Geremiano, il basket a Gorizia. Questa manifestazione come te ne pare? Sicuramente è una bella manifestazione, vedere tanti ragazzi che danno l'anima sul campo. Sono partite magari non bellissime, però... Gran cuore. Gran cuore, sì. Soprattutto queste ultime dove la fatica si fa sentire emerge veramente il carattere. E la grinta. Già. Grazie.